Carissime studentesse, carissimi studenti, desidero informarvi delle decisioni assunte dagli organi accademici che riguardano la ripresa dell'attività didattica relativa al nuovo anno accademico che avrà inizio il prossimo 21 settembre. L'attività didattica riprenderà in presenza e sicurezza. Le lezioni si svolgeranno secondo un calendario gestito centralmente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Questo consentirà un utilizzo ottimale delle aule a disposizione dell'Ateneo. Secondo le indicazioni che sono state elaborate a livello nazionale dagli organi competenti, la normale presenza nelle aule sarà ridotta sino ad un massimo del 50% di quella iniziale, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro. L'orario continuato permetterà a voi studenti di accedere ai servizi di mensa senza provocare code o assembramenti. Inoltre, per venire incontro alle difficoltà economiche causate da questa situazione di emergenza, gli organi accademici hanno deliberato che gli studenti con un ISEE fino a 25 mila euro saranno esclusi dal pagamento delle tasse. Si tratta di un impegno importante da parte dell'Ateneo per esprimere concretamente la vicinanza ai propri studenti e a quanti decideranno di immatricolarsi presso il nostro Ateneo. Stiamo anche destinando risorse per assegnare agli studenti in difficoltà economiche dispositivi per la riduzione del digital divide. Contestualmente abbiamo avviato un importante programma di potenziamento tecnologico che riguarderà le aule e i laboratori che saranno dotati di strumentazioni informatiche avanzate che permetteranno di svolgere un'efficace didattica innovativa. Nel caso si dovesse ricorrere alle turnazioni, gli studenti che in quel momento non potranno essere in presenza seguiranno le lezioni in modalità telematica con la possibilità di interagire con il docente e con gli altri studenti presenti nell'aula. Questa modalità consenterà anche in caso di ritorno alla normalità di poter seguire in diretta gli interventi di autorevoli colleghi di prestigio internazionale appartenenti ad altre università e strutture di ricerca, rendendo così più stimolante la vostra esperienza universitaria.